Buongiorno, io sono Giorgio e benvenuti a tutti nel corso su Prusa Slicer. In questa lezione andremo ad imparare come interfacciarci con il programma e come lavorare con gli oggetti tridimensionali all'interno dello slicer. Molto velocemente vediamo come si muove la visuale all'interno del programma. Tasto sinistro del mouse orbitiamo attorno al piano. Tasto destro del mouse effettuiamo il pan, ovvero trasciniamo il piano nello spazio. Con la rotellina del mouse invece possiamo zoomare avanti o indietro. La prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente caricare un file 3D. Possiamo semplicemente trascinarlo dalla nostra cartella all'interno dell'area di lavoro oppure cliccare sul pulsante aggiungi o andare su file, importa, stl. I file supportati sono questi, principalmente vengono utilizzati file stl o obj. Vado quindi a selezionare il mio oggetto e clicco apri. L'oggetto viene automaticamente caricato al centro del piano di stampa e con le dimensioni attuali dell'oggetto che come in questo caso sono molto più grandi dell'area di stampa come ci viene anche indicato dall'errore che esce in basso a destra. In questo caso la prima cosa che dobbiamo fare è quindi ridimensionare il nostro oggetto e farlo stare all'interno del piano di stampa. Abbiamo diverse opzioni. Possiamo utilizzare o la schermata che troviamo qui in basso a destra dove possiamo impostare un fattore di scala per x, y, z o una dimensione in millimetri. In questo caso se volessimo dargli una dimensione di ad esempio 20 mm in x ci basterà scrivere 20 mm qua, dare il comando invio vediamo che l'oggetto verrà automaticamente scalato. In questo caso l'oggetto è stato scalato in modo proporzionale su tutti gli assi in quanto il lucchetto che si trova qui, posto tra il fattore di scala e le dimensioni, è chiuso. Se noi vogliamo impostare dimensioni diverse sui vari assi del nostro oggetto ci basterà cliccare sul lucchetto che diventerà aperto e cambierà colora. In questo caso possiamo impostare dimensioni diverse o una scala diversa per ogni asse. In questo caso io decido di dargli di 100 mm in x e 70 mm in y. Abbiamo anche un altro modo per scalare che è utilizzare il comando che si trova nel riquadro dei comandi a sinistra della nostra schermata. Il comando da utilizzare è questo, ridimensiona. Ci uscirà una griglia composta da cubi che indicano l'asse su cui vogliamo andare a scalare il nostro oggetto. Lo potremo scalare sui vari assi oppure in modo proporzionale tirandolo dagli angoli. Oltre al comando ridimensione abbiamo anche il comando per spostare e anche questo ci permette di spostare sull'asse in cui vogliamo. Anche il comando sposta può essere utilizzato dalla sezione posta qui in basso a destra dove possiamo impostare un valore numerico e preciso per la posizione che deve avere il nostro oggetto. Stessa cosa vale per la rotazione e troviamo comunque qua a sinistra anche il comando ruota. Anche qui selezionando l'asse potremo decidere di quanto ruotarlo e vediamo che i valori qua vengono aggiornati automaticamente. In questo caso vediamo che l'oggetto non è posizionato correttamente sul piano di stampa infatti questa qua non è la posizione ottimale per stampare. Abbiamo quindi a disposizione lo strumento posiziona su faccia. Selezionando l'oggetto e cliccando su questo comando vedremo le facce piane su cui potremo appoggiare il nostro oggetto. In questo caso voglio appoggiarlo su questa faccia e clicco qua e la faccia che abbiamo selezionato viene appoggiata sul piano di stampa. Questo comando ci permette in modo veloce e preciso di posizionare i nostri oggetti. Adesso invece vediamo il comando per sezionare i nostri corpi. Dovremo sempre selezionare l'oggetto cliccando direttamente su di esso oppure selezionandolo a destra. Nel caso in cui a voi non appare questa schermata dovrete selezionare la modalità esperto in quanto PrusaSlicer ha deciso di introdurre queste tre modalità che permettono di semplificare l'interfaccia. Vediamo che selezionando la modalità semplice verranno eliminati determinati parametri in modo da semplificare l'utilizzo del programma in base alla vostra esperienza o in base ai comandi che volete utilizzare. In questo caso io preferisco sempre utilizzare la modalità esperto perché ho sempre sott'occhio tutti i parametri che mi servono. Infatti per far apparire l'albero in cui vengono mostrati tutti i nostri oggetti nella modalità semplice non sarà visibile. Andiamo quindi a sezionare il nostro oggetto andando sul comando taglia potremo inserire l'altezza a cui il nostro oggetto deve essere diviso oppure potremo andare a spostare su giù il cubo e impostare noi manualmente il piano di taglio. Questi tre comandi ci permettono di mantenere la parte superiore o mantenere la parte inferiore o entrambe se selezionate entrambe. e una cosa molto interessante è il comando capovolgi la parte inferiore. In questo modo molto velocemente con un solo clic il nostro slicer andrà a dividere in due parti l'oggetto e la parte inferiore verrà ruotata e posizionata sul piano. Come possiamo vedere in un clic infatti l'oggetto è stato diviso in due corpi come possiamo vedere qua selezionabili distintamente e la parte inferiore è stata capovolta. Per tornare indietro possiamo utilizzare ctrl z o le freccia posta qua in alto per annullare i vari comandi. In questo caso vado a importare un altro oggetto per farvi vedere altri comandi. Abbiamo importato un altro oggetto andiamo a posizionarlo sul piano utilizzando posiziona su faccia e vediamo che questo oggetto per la stampa avrebbe bisogno di alcuni supporti. Adesso scopriamo insieme due comandi che sono stati inseriti nella nuova versione di PrusaSlicer e che sono veramente molto interessanti soprattutto per la loro semplicità di utilizzo e per le funzioni che comunque sono presenti in altri slicer ma qui secondo me funzionano molto bene e sono veramente molto semplici e intuitivi da utilizzare. Selezioniamo sempre il nostro oggetto. La prima funzione che vediamo è la funzione per disegnare i supporti dove vogliamo che siano applicati. Infatti abbiamo questa icona con un pennello che dipinge sull'oggetto quindi clicchiamolo. Verrà isolato solo l'oggetto su cui vogliamo lavorare. Vediamo che ci uscirà un piccolo menu che ci mette a disposizione varie opzioni. Ci viene detto che con il tasto sinistro andiamo a disegnare i rinforzi del supporto e significa che saranno i punti in cui verrà creato il supporto. Con il tasto destro del mouse invece dipingeremo un blocco per il supporto ovvero saranno i punti in cui il supporto non verrà generato. Mentre per cancellare quello che abbiamo disegnato dobbiamo premere Shift più il tasto sinistro del mouse. Possiamo anche scegliere la dimensione del pennello e vediamo appunto che col tasto sinistro andiamo a dire dove rinforzare e col tasto destro invece verrà tracciata una linea rossa che indica dove il supporto non verrà generato. E questa cosa apre un mondo di opzioni perché mentre prima potevamo utilizzare dei modificatori e comunque la cosa era molto difficile era un po' macchinoso andare a dire dove impostare e dove non impostare i supporti in questo modo hanno semplificato veramente l'opzione di aggiungere i supporti aumentando sempre di più le funzionalità di questo programma. Una cosa interessante è che possiamo selezionare come forma del pennello una sfera o un cerchio. Se selezioniamo il cerchio la pennellata sarà applicata solo sulla superficie che noi stiamo pitturando. Vediamo che in questo caso verranno applicati sotto ma sopra la pennellata non è arrivata. Se invece selezioniamo sfera stiamo usando un pennello tridimensionale quindi in questo caso se noi ad esempio facciamo una pennellata qua sopra vediamo che la pennellata è arrivata anche sotto in quanto è proprio una sfera che fa un'intersezione con il nostro modello e possiamo anche scegliere di eliminare tutte le selezioni che abbiamo fatto. Ora vediamo l'ultimo comando di questo blocco che è intuitivo e facile da utilizzare come può essere un pennello ma questa volta non per dipingere i supporti ma per dipingere le giunzioni che sono quelle piccole imperfezioni che vengono lasciate dalla nostra stampante sui nostri oggetti perché è il punto dove si apre e dove si chiude lo strato che stiamo stampando e molte volte le giunzioni rovinano un po' l'aspetto del nostro oggetto. In questo caso possiamo personalizzare in ogni punto dove devono comparire le nostre giunzioni in modo da nasconderle il più possibile e questo comando funziona in modo analogo a quello dei supporti quindi abbiamo sempre la dimensione del pennello possiamo fare la vista in sezione per riuscire a raggiungere una parte nascosta del modello possiamo selezionare la grandezza e il tipo di pennello adesso andrò a mostrarvi velocemente il risultato di questi due comandi poi in un video a parte vedremo esattamente come impostare i supporti come utilizzare i modificatori vado quindi a dipingere dei supporti qua e vado a dire allo slicer che voglio le mie giunzioni ad esempio qua e ad esempio per la parte sotto le voglio nascoste qui sotto ok come possiamo vedere il supporto è stato applicato dove l'abbiamo dipinto e anche le giunzioni sono un po' difficili da vedere ma adesso zoomo ok vedete che la giunzione è questa ed è stata applicata dove noi l'abbiamo disegnata come ultima cosa vi faccio vedere la cronologia delle azioni e delle modifiche che abbiamo fatto recandoci quindi sulla freccia per tornare indietro che si trova qua in alto cliccando su questa freccia una volta torneremo indietro come funziona su tutti i programmi cliccando con il tasto destro attiveremo la cronologia delle azioni vediamo un elenco di azioni che noi abbiamo fatto all'interno del programma e potremo scegliere quante azioni annullare in questo caso ad esempio torniamo indietro di 25 azioni e analogamente sulla freccia per ripetere le azioni potremo tornare avanti di un certo numero di modifiche comunque in questo modo possiamo andare avanti indietro nelle azioni che abbiamo fatto e questo oggi vola veramente tantissimo il lavoro questo video è uscito abbastanza lungo quindi vi aspetto numerosi nei prossimi video e ho ancora tantissime cose da dirvi e da spiegarvi su plus a slicer e questo programma lo voglio approfondire nel dettaglio quindi non perdetevi i prossimi video ciao a tutti arrivederci ciao a tutti